Ama te stessa Criolipolisi Trattamento definitivo non chirurgico di adiposità localizzata delle braccia, addome, fianchi ed arti inferiori Il tessuto adiposo tramite manipoli ad effetto vacuum viene portato ad una temperatura di meno 10 gradi Per 50 minuti Le cellule adipose vanno incontro a morte cellulare e liberazione di trigliceridi ed acidi grassi Nessun effetto collaterale Perdita definitiva di tessuto adiposo valutabile in centimetri Tantussi Skin Care